Uno dei concetti che secondo me sono venuti fuori e importante di questo progetto è appunto come i ragazzi si stanno analizzando, si stanno vedendo e soprattutto quello che loro hanno in qualche modo, stanno affrontando, veramente il fatto di come gli altri li vedono. È stato interessante anche come loro hanno capito oggi il percorso che fanno la mattina con l'ADD, cioè il vedere il muretto dell'ADD fisico, il muretto fisico come ostacolo. Quindi abbiamo anche parlato di cose al di fuori, di quello che era successo questa mattina o durante il pomeriggio, ma proprio delle esperienze che erano successe allora ad esempio a scuola.